Musica Ciao a tutti ragazzi questo video tutorial spiegherà come applicare un effetto di collage basata su una sola immagine con anche un effetto di sovrapposizione iniziamo subito sbloccando questo lucchetto qua doppio clic ok e dopodichè andiamo a cliccarci sopra e trasciniamolo su questo iconcino qua per riduplicarcelo in questo modo ci creerà livello zero copia ora andiamo sulla barra strumenti clicchiamo lo strumento rettangolo tasto destro se non lo vedete strumento rettangolo andiamo qua sotto e scegliamo con doppio clic la colorazione delle nostre foto diciamo selezionato il colore bianco ok e andiamo a tracciare le dimensioni delle nostre fotografie una cosa del genere perfetto poi le dimensioni potete sceglierle voi ora andiamo qua e ci creerà forma 1 che sarà la nostra foto diciamo lo clicchiamo e lo trasciniamo tra livello zero copia e livello zero qua in mezzo al centro delle due ora clicchiamo livello zero copia tasto destro crea maschera di ritaglio perfetto una volta fatto questo andiamo qua sotto sul livello zero lo clicchiamo creiamo un nuovo livello e andiamo a premere ctrl come vedete il nostro puntatore è già cambiato e clicchiamo su questa parte qua perfetto ora come vedete ci creerà questa sorta di selezione noi andiamo su selezione modifica espandi e andiamo a espandere diciamo la nostra selezione io già lascio 10 quindi me lo espanderà di 10 pixel ok perfetto ora andiamo sullo strumento secchiello tasto destro strumento secchiello e clicchiamo all'interno e come vedete ci creerà questa cornice ora andiamo su selezione trasforma selezione e andiamo qua sotto e la facciamo diciamo allungare un attimo fino a qua va anche bene clicchiamo questo e facciamo applica perfetto una volta applicata la selezione in questo modo andiamo qua sotto creiamo un altro livello cliccando ci creerà il livello 2 e andiamo di nuovo sullo strumento secchiello e ci clicchiamo dentro di nuovo come vedete ci aggiungerà il pezzo per fare appunto una sorta di fotografia clicchiamo lo strumento selezione questo qua rettangolare ci clicchiamo dentro così ci eliminerà la selezione e andiamo qua sotto premendo CTRL scusate CTRL comunque control andiamo a selezionare tutti e due i livelli livello 1 e livello 2 ora tasto destro unisci i livelli clicchiamo sulla scritta due volte magari e andiamo a rinominarlo base perfetto perché sarà la base della foto ok ora come vedete possiamo andare qua sotto FX clicchiamolo opzioni diffusione ci apparirà questo ora andiamo su ombra esterna ci clicchiamo sopra lo ticchiamo diciamo andiamo a togliere il tic qua usa luce globale lo togliamo andiamo a mettergli un angolo da dove proviene la luce quindi l'ombra andiamo a mettere l'opacità magari più alta magari anche al 100% distanza dipende quanta distanza volete inserire io ci metto un 7 pixel anzi un 5 pixel estensione magari un un 14% dimensione dimensione vado a aumentarla a 29 pixel poi dipende da voi 29 pixel e poi l'opacità la voglio diminuire perché non mi va bene ok una cosa del genere può anche andare bene ora andiamo su sovrapposizione sfumatura clicchiamoci sopra e andiamo come vedete ci metterò una sfumatura nero e bianca se voi non l'avete clicchiamoci sopra e andiamo a selezionarla qua ok opacità la andiamo a diminuire di molto anche andiamo a un'opacità veramente leggera quindi andiamo su su un 7% un 7% va bene anche di meno facciamo ok e in questo modo ci applicherà diciamo l'effetto ora tenendo premuto CTRL control andiamo a cliccare qua così ci selezionerà tutti e due i livelli diciamo la forma 1 e la base ora andiamo e clicchiamo questa iconcina qua in questo modo ce li collegherà perfetto ora quello che ci resta da fare sarà modificare la base clicchiamo su base facciamo modifica trasformazione libera e possiamo andare a spostarla come vogliamo possiamo andare magari a dare una posizione più dinamica più qualcosa insomma e ok una volta scelta la posizione andiamo su questa freccita qua e facciamo applica e ci applicherà la foto ora con CTRL premuto andiamo a selezionare forma 1 e anche livello 0 copia questo qua queste tre insomma e premiamo CTRL G e ci creerà un gruppo lo chiamerà gruppo 1 ora con gruppo 1 lo clicchiamo e lo trasciniamo qua e ci farà gruppo 1 copia apriamo il nostro gruppo e andiamo su base ora andiamo su modifica trasformazione libera e andiamo a spostarlo in questo modo vedete che ci ha creato una copia diciamo e anche qua andiamo a spostarlo come volete come vogliamo io magari la metto così la metto proprio a caso andiamo sulla freccia clic applica dopodichè chiudiamo di nuovo questo gruppo con questa freccetta qua prendiamo il gruppo 1 copia e lo trasciniamo sempre in questa icona per duplicarcelo apriamo di nuovo il gruppo andiamo di nuovo su base andiamo di nuovo su modifica trasformazione libera e come vedete ce lo riduplica andiamo magari a spostarlo in questo modo sulla freccetta applica ora chiudiamo il gruppo clicchiamoci sopra trasciniamolo di nuovo per duplicarlo andiamo su modifica trasformazione libera e lo trasciniamo scusate ho sbagliato torno indietro ctrl z dovrò aprire il gruppo scusate aprire il gruppo andare su base modifica trasformazione libera e eccoci qua di nuovo ce la mettiamo come vogliamo magari stavolta ce la ce la caccio così clicchiamo la freccia applica chiudiamo di nuovo prendiamo di nuovo trasciniamo di nuovo qua duplica apriamo base modifica trasformazione libera in questo modo qua poi insomma ve le mettete come volete perfetto di nuovo su questa freccia applica chiudiamo il gruppo e in questo modo abbiamo fatto diciamo le nostre foto ogni gruppo corrisponde appunto a una foto come potete vedere cliccando su questi occhielli possiamo andare a nasconderle o visualizzarle ora se vogliamo ad esempio cambiare la disposizione delle nostre foto nel senso che vogliamo questa foto qua ad esempio questa parte qua la vogliamo sopra quest'altra foto basta selezionare questa foto qua e trasciniamola in alto in alto in alto attenzione a non farla entrare in un altro livello dovete proprio guardare bene trascinarlo non dentro le altre cartelle se no diciamo che ve le cioè vi inserisce il gruppo dentro un altro gruppo quindi state attenti perché è molto facile sbagliarsi comunque e niente e potete comunque cambiarle disporle in tutte le posizioni che volete ora andiamo magari a dargli un piccolo effetto anche lo sfondo dietro per magari differenziarlo un po' dalle nostre piccole foto semplicemente magari applicando con questa icon cliccando facciamo tonalità e saturazione clicchiamo su colora e andiamo magari a darle un tono azzurrino un tono azzurrino la saturazione la andiamo a diminuire in questo modo magari non troppo una cosa del genere insomma è anche carina luminosità la lasciamo stare e niente una cosa del genere molto semplice poi se vogliamo possiamo andare su livello zero andare su filtro sfocatura controllo sfocatura e magari darle anche una leggera sfocatura se vogliamo proprio darle un in questo modo io metto 2,0 pixel ok come vedete l'effetto è completato comunque potete anche levare lo sfondo in questo modo così avrete uno sfondo trasparente oppure applicarci comunque un altro sfondo e niente il tutorial praticamente è finito spero che sono stato chiaro che vi sia stato utile cristo muoio adesso e niente iscrivetevi al mio canale per essere sempre aggiornati condividetelo magari su facebook non so commentate se avete problemi e niente e ci vediamo al prossimo tutorial a Autore dei sorrisi